Salmo 46 e ho messo un titolo Forte Rocca è il nostro Dio che cambia poco ma il soggetto è quello lì Salmo 46 Dio è per noi un rifugio è una forza un aiuto sempre pronto nelle difficoltà perciò non temiamo se la terra è sconvolta se i monti si smuovono in mezzo al mare se le sue acque rumoreggiano e schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti c'è un fiume i cui riuscelli rallegrano la città di Dio il luogo santo di Mora dell'Altissimo Dio si trova in essa non potrà vacillare Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino le nazioni rumoreggiano i regni vacillano egli fa udire la sua voce la terra si scioglie il Signore degli eserciti è con noi il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio venite, guardate le opere del Signore egli fa sulla terra cose stupende fa cessare le guerre fino all'estremità della terra rompe gli archi spezza le lance brucia i carri da guerra fermatevi dice e riconoscete che io sono Dio io sarò glorificato fra le nazioni sarò glorificato sulla terra il Signore degli eserciti è con noi il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio vogliamo chiudere i nostri occhi Signore e caro Padre ti vogliamo ringraziare per questo dono prezioso che ci dai di stare alla tua presenza per ascoltare la tua parola noi ti ringraziamo perché tu non dai mai quello che è poco ai tuoi figli ma apri Signore la dispensa del cielo perché possano essere saziati alla tua presenza rallegrarsi, gioire per tutto quello che tu compi per noi noi ti ringraziamo nascondi il tuo servo guida questa parola che sia efficacia scossa, pigiata per la nostra vita attraverso lo Spirito tuo Santo ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù il tuo figliolo il benedetto in eterno Amen accomodatevi accomodatevi ho pensato a questo salmo anche perché in questi in questo periodo che abbiamo trascorso è stata una parola che spesso è venuto alla mia vita come sapete c'è un inizio molto forte è un raggio di sole proprio che penetra attraverso questo salmo che noi abbiamo letto il primo versetto ci dice Dio per noi è un rifugio una forza un aiuto sempre pronto nelle difficoltà poi ci rappresenta qualcosa che può succedere ed è accaduto nella vita di ognuno di noi anche nel passato perché il salmo che abbiamo letto è un qualcosa che hanno vissuto quelli che ci hanno preceduto e ci hanno lasciato questa eredità e rappresenta proprio questo perciò non temiamo se la terra è sconvolta se i monti si smuovono in mezzo al mare se le acque rumoreggiano schiumano e si compiano facendono tremare i monti io penso che questo salmo è un salmo anche non solo scritto per rallegrare la nostra vita perché il nostro la nostra forza il nostro rifugio è Cristo Gesù il Signore che ha iniziato un'opera e la porterà a termine fino alla fine lo disse Gesù io sarò con voi fino alla fine dei vostri giorni ma quello che stiamo vedendo in questi giorni in questi periodi quello che la televisione continuamente ci porta davanti alla nostra vita è quasi quello che c'è scritto qua è proprio un messaggio profetico dice perciò non temiamo se la terra è sconvolta la terra è sconvolta fratelli noi siamo quasi in un momento che le cose stanno cambiando velocemente e non ci possiamo neanche aspettare che le cose migliorano perché non dico che non dobbiamo avere fiducia nell'uomo ma comunque noi dobbiamo avere la nostra fiducia in Dio perché l'uomo può programmare l'uomo può avere dei desideri anche di fare la pace perché c'è una guerra un po' in tutto il mondo le nazioni tremano i popoli veramente sono in difficoltà noi dobbiamo veramente attaccare la nostra vita al Signore perché molti di noi sono di dubbanti di questo periodo molti di noi stiamo vedendo che dobbiamo veramente come ai tempi di Giuseppe quando ci sono stati sette anni di vacche grasse e poi arrivarono i sette anni di vacche magre dobbiamo amministrare e farci amministrare dalla grazia di Dio dalla parola di Dio non dobbiamo avere timore perché il Signore è con noi non temiamo anche se i monti sono scossi anche se sentiamo rumori di guerra anche se c'è questa situazione che sta sconvolgendo tutto il mondo le famiglie le persone molti vivono in questa situazione molto hanno il cuore come questa parola che leggiamo sono sconvolti sono veramente senza una speranza sono in questo rumore di persone di parole che vogliono veramente legare gli uomini o le donne o tutta l'umanità a questa condizione noi abbiamo veramente la grazia di Dio nel nostro cuore Dio ce lo dice nel primo versetto Dio è per noi un rifugio è una forza un aiuto sempre pronto nelle difficoltà quindi sappiamo che Dio provvede per le nostre necessità non abbiamo paura saranno tempi difficili ma più i tempi sono difficili più Dio vuole fare un lavoro nella nostra vita evidentemente il Signore vuole preparare in questi tempi attraverso questa parola la nostra fede la nostra fede deve essere fondata sulla roccia che Cristo Gesù il Signore è l'unico fondamento c'è un proverbio che dice che nel mare che rappresenta il mondo la vita del peccato che nel mare non ci sono rifugi non c'è un posto se succede una tempesta se si scatena qualcosa se veramente i mari rumoreggiano tu non hai dove posare il capo come salvarti ma Gesù è la nostra salvezza noi siamo al sicuro alleluia questa parola ci dice ci fa riflettere anche mi sono segnato questo ritrovare noi stessi in Dio quando ci sono questi sconvolgimenti Dio ci dà un consiglio in questo salmo ritrovare noi stessi in Dio perché lì abbiamo il nostro ristoro lì abbiamo la nostra consolazione lì abbiamo il consiglio che ci viene dato dallo Spirito Santo Dio ci mette nella serenità noi siamo protetti dal Signore non dobbiamo temere Dio è il nostro rifugio è il nostro aiuto è colui che ci sostiene è colui che porta avanti l'opera sua nella nostra vita noi dobbiamo avere fede e fiducia in questo grande Dio che non è cambiato Dio è lo stesso ieri ha sostenuto questi figli di Core che hanno una storia bellissima se vi ricordate quando Mosè è salito 40 giorni sul monte quando sono scesi questi Core queste famiglie si sono ribellate a Mosè ad Aronne e hanno fatto una triste esperienza sono stati risucchiati dalla terra eppure questi figli non hanno guardato a questi esempi negativi ma hanno confidato in Dio hanno servito il Signore perché hanno riconosciuto che Dio è l'unico Dio è l'unico Dio che salva che sostiene che aiuta e questi figli di Core erano persone servi le viti che cantavano le lodi al Signore di fatti hanno scritto tanti salmi che sono di lode cantavano nel Tempio di Dio ringraziavano il Signore tante volte le esperienze negative servono proprio per cambiare il nostro cuore per darci un monitor attenzione attenzione noi vogliamo guardare con i nostri occhi Cristo Gesù il Signore e c'è un altro passaggio la fiducia che dobbiamo avere voi pensate un po' molte città nei tempi antichi anche l'Egitto costruivano vicino ai fiumi perché vicino ai fiumi c'era la ricchezza si potevano spostare anche le nazioni potevano commerciare tra di loro c'erano bagagli di esperienze di civiltà diverse quindi tante città anche in Europa adesso sono costruite vicino ai fiumi ma tante volte questi fiumi creano anche danni l'abbiamo visto anche in Italia ma io dico la parola guardate quanto è bella e profonda dice la parola di Dio c'è un fiume i cui riscelli rallegrano la città di Dio il luogo santo della dimora dell'altissimo Dio si trova in essa non potrà vacillare Dio la soccorrerà al primo che è all'ora del mattino Gerusalemme non ha un fiume questa città non è costruita vicino al fiume il tempio di Dio non è costruito vicino a un fiume qual è questo fiume questo fiume è Cristo Gesù questo fiume è lo Spirito Santo è Dio stesso che rallegra noi se lo diciamo al mondo non lo può vedere ma questo fiume vive nella nostra vita ed è lo Spirito Santo i veri adoratori dice il Signore adorano Dio in spirito e verità questo fiume ancora stasera rallegra la nostra vita e ci dice io disseto le anime vostre qual è il vostro bisogno venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati io vi darò riposo questo è il fiume della grazia di Dio che ancora arriva alla nostra vita ancora stasera il Signore ci dice non temere perché l'acqua che io ti darò è un'acqua che disseta l'anima è un'acqua che scaturisce a vita eterna e bisogna avere fiducia bisogna avere fede nel nostro Dio e c'è ancora un'altra cosa dal versetto 6 dice le nazioni rumoneggiano i regni vacillano egli fa udire la sua voce e la terra si scioglie il Signore degli eserciti è con noi il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio Dio veglia noi tante volte diciamo che Dio è sovrano e al di sopra di ogni altra cosa lui veglia controlla non è escluso dalla storia lui fa la storia con Cristo Gesù con i profeti con gli apostoli Dio fa la storia Dio entra nella storia Dio si interessa della storia Dio cambia Dio cambia la storia Dio ci ha dato un nuovo cammino egli è la via io sono la via la verità e la vita nessuno va al padre se non permesso di me Gesù ha cambiato la storia alcuni libri alcuni fratelli dicono che Gesù è il più grande rivoluzionario della terra tre anni ha messo sotto sopra il mondo e ancora oggi la Chiesa ha questa autorità ancora oggi la Chiesa ha questa autorità di mettere sotto sopra il mondo mentre gli altri sono legati dalle paure non sanno più come fare ed è anche giusto umanamente sentivo per televisione molti pensionati come fanno come vivranno dove cercheranno le loro risorse come faranno con un tempo così noi abbiamo un grande messaggio da portare all'umanità in questo tempo siamo chiamati in questo tempo a raccontare ancora che Dio è capace di cambiare ogni cosa Dio è capace ancora di essere il rifugio e una forza non solo per noi ma anche per coloro che spingiamo a questo fiume a questa grazia a questa fonte di vita che porta pace come disse Gesù io lascio pace vi do la pace perché la presenza di Dio la benedizione di Dio è la nostra pace amen fratelli un altro un altro passo che volevo dirvi è un'altra storia che racconta attraverso questo salmo perché comunque dice il Signore dice fermatevi dice e riconoscete che io sono Dio c'è un tempo per camminare un tempo per servire il Signore un tempo per rallegrarci delle opere meravigliose lo dice il versetto 8 venite guardate le opere del Signore che Egli fa sulla terra cose stupende a noi ci ha dato una vista spirituale molti molti pensano che Dio ha abbandonato questa umanità noi abbiamo un occhio spirituale e riconosciamo che Dio ancora oggi fa cose stupende per ognuno di noi e anche per coloro che non lo riconoscono noi abbiamo riconosciuto Cristo e abbiamo anche riconosciuto che Dio il Signore anche quando eravamo lontani dalla sua grazia ha protetto la nostra vita da tante situazioni difficili ci ha scampati perché aveva preparato un giorno dove lo Spirito Santo veniva a bussare la nostra vita ha compunto il nostro cuore e tanti di noi possono raccontare che il Signore si è servito di persone di fratelli di sorelle che ci hanno portato questo messaggio della buona novella e noi oggi ci troviamo qui alla presenza del Signore dove ci sono sti rivi questi riuscelli che arrivano ancora alla nostra vita ognuno individualmente ognuno personalmente la parola sa conosce il pastore può conoscere poco se vi vedo qui posso dire che state tutti bene questa è la mia gioia di vedervi tutti quanti bene come voi sperate che la mia vita la mia famiglia stia sempre bene questi sono i figlioli di Dio però io non conosco il Signore sa quello che avete nel vostro cuore quelle che sono le vostre paure quando arrivano queste pressioni queste situazioni che sembrano quasi che vogliono fermare la nostra fede la nostra preghiera la nostra meditazione noi dobbiamo continuare ad andare avanti a sperare e poi concludo fermatevi dice e riconoscete che io sono Dio io sarò glorificato fra le nazioni sarò glorificato sulla terra questo versetto mi piace tanto l'undici l'ultimo il Signore degli eserciti è con noi Amen volevi sentire un Amen il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio come mai conclude con il Dio di Giacobbe perché Giacobbe in questo salmo poteva mettere Abramo poteva mettere Isacco poteva mettere Noè poteva mettere Mosè perché parla di Giacobbe perché lottò e vinse con Dio a volte la nostra vita spirituale è anche una lotta dobbiamo vincere le nostre battaglie riconoscendo che Dio è con noi a volte ci rassegniamo ci fermiamo ci scoraggiamo e non c'è più questo desiderio di lottare ci rassegniamo come se neanche Dio può fare qualcosa nella nostra vita su qualcosa che abbiamo nel nostro cuore noi dobbiamo lottare e vincere con Dio come Giacobbe Giacobbe conosceva bene l'insicurezza di non essere il figlio favorito sappiamo che Isacco portava molto Esau quindi in lui c'era questa insicurezza ha conosciuto l'angoscia di dover fuggire dall'ira del fratello Esau quindi era perseguitato aveva tutti i giorni il timore della sua vita il disagio di essere ingannato e preso in giro dal suo suo cero Labano vi ricordate no? ha preso in giro lui che era un soppiantatore e prendeva in giro gli altri ha subito con la stessa moneta sulla propria vita perché doveva imparare e noi tante volte dobbiamo imparare da quelli che sono veramente gli insegnamenti di Dio sulla nostra vita l'inganno dei figli un dolore così grosso una bugia su Giuseppe che era stato sbranato da una belva selvaggia mentre invece Giuseppe era vivo il dolore di un padre la bugia dei suoi figli che dolore ha vissuto quest'uomo di Dio sapeva cosa significa perdere ed essere privati di una persona amata cara Rachele la moglie quella che lui amava quindi conosceva anche il dolore di una separazione io non lo so perché parlo così stasera fratello ci sono tanti dolori che sono nascosti nella nostra vita che solo Dio conosce e solo Dio ha la medicina e il balsamo per curarla Giacobbe ci è passato in tutte queste sofferenze non ha avuto la vita sempre col sole ha fatto anche degli errori ma li ha riconosciuti ma ha vinto ha lottato conosceva anche il dolore di perdere un figlio per poi riaverlo il Dio glielo ha donato ed è Giuseppe che è ritornato a casa si è potuto rallegrare il cuore di Giacobbe e in questo ha visto la fedeltà di Dio secondo me nel suo cuore Giacobbe poteva dire Dio è per me un rifugio è una forza un aiuto sempre pronto nelle difficoltà senza queste prove Dio sarebbe rimasto per Giacobbe l'iddio di mio padre Isacco e di mio nonno Abramo così avrebbe conosciuto Dio sulla benedizione degli altri tu vuoi conoscere Dio sulla tua benedizione su quello che Dio ti ha posto davanti su quello che Dio ha donato per darti tutto questo stasera perché siamo alla sua presenza Dio ci ha donato tanto non si è risparmiato e conosce i nostri dolori profondi le nostre necessità le nostre prove le nostre difficoltà i passaggi che dobbiamo attraversare attraverso queste circostanze e situazioni dolorose Dio il Signore divenne anche per lui reale e personale e riconobbe che la presenza di Dio era la vera ricchezza e la benedizione di Dio la sua garanzia stasera abbiamo questo riproponimento di ritrovare noi stessi alla presenza di Dio in ogni aspetto della nostra vita vogliamo ritrovarci insieme stasera alla presenza di Dio la parola di Dio ci ha posto tante cose davanti stasera però una cosa è importante che Dio è il nostro aiuto è il nostro rifugio e noi non dobbiamo temere perché se Dio è con noi chi sarà contro di noi andiamo a alzarci in piedi vogliamo pregare il Signore e ringraziarlo con tutto il nostro cuore questo salmo sapete ha dato l'ispirazione a Marti Lutero di fare quel cantico forte Rocca è il nostro Dio quindi è stato ispirato da questo salmo Marti Lutero e Marti Lutero ha dovuto combattere Marti Lutero ha dovuto combattere tante persecuzioni in quel tempo e noi siamo un frutto perciò ci chiamano i protestanti bravo perciò noi veniamo chiamati i protestanti proprio da quel frutto da quell'esperienza personale che Marti Lutero ha fatto col Signore alleluia vogliamo pregare grazie a tutti